Innalzamento della soglia di sicurezza all'ingresso del palazzo del Consiglio regionale da un lato, due giorni di sospensione dall'aula del consigliere leghista Calligaris dall'altro. Sono in sintesi le due principali proposte avanzate oggi dall'ufficio di presidenza del Flurio Venezia Giulia, preseduto da Piero Mauro Zanin. L'incontro odierno è stato reso necessario dopo il blitz di Casa Pound in piazza Oberdam e l'inevitabile monitoraggio delle falle di sistema che hanno permesso ai 14 militanti di estrema destra di raggiungere facilmente l'aula durante una commissione consigliare. Decise ferma condanna, nonché fiducia nell'operato della magistratura, sono state espresse oggi dal presidente d'aula Zanin. L'ufficio di presidenza che si è riunito dopo sei giorni dei fatti avvenuti con l'invasione da parte di Casa Pound del Consiglio regionale ha stigmatizzato con forza l'atto antidemocratico fatto da queste persone che hanno interrotto i lavori consigliari dove vengono scelte e prese le decisioni per la nostra comunità regionale. Contestualmente l'ufficio di presidenza ha deciso di aumentare i livelli della sicurezza passiva attraverso l'installazione di una doppia porta per consentire successivamente alle guardie giurate di poter identificare e bloccare eventualmente chiunque voglia entrare non autorizzato nei palazzi regionali. Infine si è ragionato relativamente alla questione del consigliere Caligaris e ho proposto all'ufficio di presidenza una censura con una sospensione di due giorni dall'aula del consigliere stesso per i fatti gravi e le parole gravi che ha detto durante quella giornata. Questa proposta che farò all'assemblea sarà votata nella prima seduta utile del consiglio regionale di settembre.